Effettuata presso la sala settoria dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati la prima autopsia sul cadavere di una persona deceduta per covid-19 su disposizione la procura della Repubblica di Avellino. Definito nei minimi dettagli l'iter da seguire per l'esecuzione di autopsie ritenute ad alto rischio biologico per gli operatori che saranno tenuti a rispettare precise raccomandazioni, individuati anche i percorsi interni di sicurezza per il trasporto delle salme, nonché l'area di sosta destinata ai soli cadaveri covid-positivi con accessi indipendenti dai locali non covid. Per risposta una sala di decontaminazione in entrate e di sanificazione in uscita dalla sala settoria covid con un contestuale adeguamento del sistema di areazione. Il ministro della salute ha emanato queste direttive particolarmente restrittive sulle procedure da seguire e requisiti strutturali necessari per poter effettuare l'esame autoptico su pazienti covid-positivi. I locali e la città ospedaliera destinate alle attività obitoriali presentando già specifiche caratteristiche e la predisposizione per integrare le attività sono stati in breve tempo adeguati alle misure indicate grazie al prezioso interessamento, all'astidua condivisione, al pieno appoggio della procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino che ha supportato il lavoro sinergico tra direzione strategica, servizio di prevenzione e protezione, ufficio tecnico e medicina legale. Il raggiungimento del livello 3 di biosicurezza richiesto alle direttive ministeriali per determinare attività necroscopiche non solo ha consentito di poter effettuare la prima autopsia ma permetterà all'azienda ospedaliera Moscati di poter eseguire anche in futuro esami autoptici su persone decedute per covid-19 sia ai fini di un eventuale studio medico scientifico sia per continuare ad essere di supporto al lavoro dell'autorità giudiziaria. Grazie